Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la manovra 2023-2025, che comprende il bilancio di previsione 2023-2025, la legge di stabilità per il 2023 e la nota di aggiornamento al documento di Economia e Finanza 2023 con i voti favorevoli di PD e Italia Viva e i voti contrari di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto Toscana Domani. È arrivato in aula anche il maxi emendamento del Presidente della Giunta Eugenio Gianni, che ha unito maggioranza e opposizione ed è frutto di un lavoro di concertazione che raccoglie sollecitazioni trasversali e arricchisce previsioni di intervento di spesa su sociale, cultura e ambiente. Sono state giornate lunghe, intense, con un unico obiettivo, cercare di approvare il bilancio per dare risposte alle cittadine e ai cittadini della Toscana. La necessità di non aumentare la tassazione è stata una delle scelte principali di questo bilancio. Le risorse, più di 100 milioni di euro per cofinanziare i fondi europei e questo ha ricadute nella vita di ciascuno di noi. Penso per esempio alla possibilità a partire da settembre di offrire gli asili nido gratuiti a tutte le famiglie toscane sotto i 35 mila euro di sé, oppure finanziare le tante iniziative imprenditoriali che decidono di investire nel territorio della nostra regione. Un bilancio che pone l'attenzione nelle zone più periferiche. Noi ci siamo posti un obiettivo, un bimbo che nasce nel comune più periferico della Toscana deve avere gli stessi diritti e le stesse opportunità di una bambina che nasce a Firenze. Ed è quello che facciamo con le risorse per i piccoli comuni, offrendo la possibilità di sostenere le tante iniziative che ci vengono proposte dai territori sotto i 5 mila abitanti. Insomma un bilancio che pone al centro il tema della salute, della sanità pubblica, della scuola pubblica e che offre opportunità alle cittadine e ai cittadini toscani. In realtà la manovra che è stata presentata è una manovra che dal punto dei volumi cresce, siamo quasi a 12 miliardi, anche in virtù di una aspetto molto positivo, che sono circa 800 milioni in più che arriveranno dall'Europa per quanto riguarda la programmazione ordinaria, quindi i fondi che riguardano il 21-27. Nonostante le difficoltà che ho detto, l'aumento dei costi dell'energia che si aggiungono a queste difficoltà, non sono previsti aumenti di tasse e questo è un altro aspetto che intendiamo sottolineare. Dopodiché con il nostro emendamento, max emendamento, che abbiamo chiesto al Presidente abbiamo inteso anche migliorare questa manovra su alcuni aspetti che per noi sono fondamentali perché, come abbiamo sempre detto, il lavoro, la salute, il sociale, gli investimenti sono le nostre priorità. Allora abbiamo chiesto di aumentare le risorse per quanto riguarda il sostegno alle famiglie che hanno al loro interno dei disabili gravi. Abbiamo chiesto di prevedere delle risorse in continuità con quanto avvenuto negli anni scorsi per i piccoli comuni, che spesso sono i piccoli comuni montani e delle aree interne. Abbiamo chiesto di aumentare le risorse per sostenere chi ha fatto domanda nei bandi della legge cosiddetta dei custodi della montagna, di cui siamo stati promotori e che ha avuto un grande successo. Sono state oltre 400 le domande che sono pervenute. Abbiamo chiesto di poter implementare le risorse per quanto riguarda una serie di interventi di investimento, anche puntuali, per dare risposte a quello che ci hanno chiesto i comuni e un'attenzione nei confronti dei gestori delle RSA e delle RSD, quindi i nostri anziani che noi speriamo anche attraverso il sostegno della regione non vedano l'aumento delle rette. Ecco, questo è il senso del contributo che il Partito Democratico ha chiesto al Presidente per implementare e per migliorare la manovra che è arrivata. E quindi crediamo che in questo modo possiamo dare anche nel prossimo anno le risposte di cui la Toscana ha bisogno in una fase che comunque si preannuncia molto impegnativa per le famiglie, per le imprese, ma anche con il sostegno di quello che è contenuto in questo bilancio e sperando che alcuni grandi interventi riprendano o prendano avvio, penso al sottoattraversamento per quanto riguarda il ferroviario per quanto riguarda Firenze oppure i lavori finalmente della Dars in Europa, possiamo guardare al 2023 con speranza e comunque convinti che siamo qui per dare un contributo importante alle nostre comunità. È un maxi emendamento che arricchisce le previsioni di intervento e di spesa della regione in una serie di settori, soprattutto il sociale, ma anche settori che in qualche modo possano affiancarsi ad essi, la cultura, tanto per fare un esempio, le questioni ambientali e devo dire che dimostra che il bilancio diventa un atto concertato fra maggioranza e opposizione e quindi il contributo diventa un contributo costruttivo a un lavoro che la maggioranza con molto dialogo e apertura riesce a sviluppare. Il bilancio quest'anno è un bilancio di investimenti, 100 milioni in più nella parte corrente del bilancio a questo dedicati, la definizione di un impatto e di un impegno forte della regione per la realizzazione con 200 milioni, 195, dell'ospedale di Livorno, lo sviluppo dei lavori di potenziamento a Cisanello a Pisa, la realizzazione della Darsena Nord, della cosiddetta Darsena Europa al porto di Livorno che consentirà un pescaggio da 12 a 20 metri, quindi tante più navi potranno attraccare, di interventi che vanno poi in modo più puntuale a coinvolgere il territorio. Io ritengo che sia molto bello che stasera si possa votare con una capacità, diciamo così, di immergere quello che è la proposta della Giunta con contributi importanti che vengono dalla maggioranza del Consiglio regionale e anche dall'opposizione. La manovra di bilancio di fine anno della Regione Toscana è come un regalo di Natale reciclato. In sostanza la parola d'ordine è proroga, cioè si prende quello che non si è fatto negli anni precedenti e si ripropone. Certamente è un bilancio che non ha una completezza perché la parte fondamentale che è il bilancio della sanità lo vedremo alla fine di aprile e quindi lì capiremo se veramente la Giunta regionale metterà le mani nelle tasche dei toscani per aumentare magari qualche tassa come si è detto l'IRPEF per esempio. In sostanza è un bilancio deludente perché poi va a toccare degli interventi anche specifici che sono degli interventi che in realtà dovrebbero poi riguardare nella completezza tanti territori. Cioè non si capisce perché si deve andare magari a ristrutturare un teatro di una tale cittadina oppure si deve andare a completare un'opera pubblica di un certo comune e non fare i bandi, cioè di non rendere questa possibilità a tutte le amministrazioni comunali dalle più piccole alle più grandi dei nostri territori. Quindi si fanno degli interventi specifici senza capire il perché. Questo è un altro elemento negativo. Quindi è un bilancio che in generale non ci può soddisfare ma fondamentalmente perché manca di programmazione, manca il piano regionale di sviluppo e questo chiaramente pone mancanza alla progettualità, a quella che può essere la programmazione della nostra attività regionale. Mancano i piani regionali sull'energia, sull'ambiente, si fanno tante chiacchiere per esempio con gli stati generali, da un lato si fanno gli stati generali della salute, poi si fanno gli stati generali dello sport, poi si fanno gli stati generali della cultura, poi si fanno gli stati generali dell'ambiente ma non si fa quello che dovremmo fare da legislatori della regione toscana, cioè intervenire sugli atti e fare i piani e legiferare. Se per esempio il piano regionale sulla sanità del 2015 non funziona perché vediamo chiaramente che il sistema non funziona e lo vediamo in primis dalle liste di attesa, bisogna lavorare sul nuovo piano sanitario regionale. Quindi non si sta lavorando in maniera seria ma si sta navigando nuovamente a vista. Ma è una manovra di bilancio che come abbiamo avuto modo di dire arriva senza che siano stati rispettati i tempi necessari affinché chiunque, non soltanto le opposizioni, ma chiunque potesse leggere e capire in maniera seria cosa stessimo per votare. Non a caso non è una nostra supposizione ma l'aula si blocca e riparte continuamente, non riesce nemmeno a sviluppare in maniera seria il lavoro perché come sempre i bilanci arrivano e dopo quattro ore si pretende che i consiglieri li votino senza conoscerne i contenuti. Quando abbiamo visto i contenuti abbiamo visto una serie di spot fini a se stessi, investimenti che è difficile anche giudicare se sono giusti o sbagliati. Faccio un esempio, se si destina un milione di euro al rifacimento di un cinema e si specifica il cinema del comune X, chiunque di noi dovrebbe avere il tempo tecnico di confrontarsi con i nostri referenti sul territorio, con i consiglieri comunali e capire se quello stanziamento ha un senso oppure se sarebbe meglio destinarlo al cinema Y. Una regione non deve fare questo, una regione deve pensare a stanziare dei fondi per i cinema in generale, poi saranno i singoli comuni che si candideranno, che si proporranno per ristrutturare i propri cinema. Se si fanno interventi spot diventa difficile giudicare se sono fatti bene o male e la Giunta Gianni ormai ci ha abituato a questo tipo di ragionamento. Noi abbiamo presentato oltre mille emendamenti cercando di riportare questa manovra in un contesto per noi più consono, vediamo quanti saranno accettati, come si svilupperà il dibattito. Abbiamo già fatto una nottata fino alle 3 in aula, speriamo di mangiare il panettone con le nostre famiglie e non nella sala del Palazzo del Pegaso. Il commento è presto fatto, un documento di 760 pagine, un documento economico finanziario consegnato al Consiglio una settimana prima della discussione in aula con un accavallarsi di commissioni che ha reso praticamente impossibile ogni approfondimento e questo anche perché sia il Presidente del Consiglio che è assessore anche al bilancio e gli altri assessori hanno mancato di farci avere tutta la spiegazione politica di come era stato impostato questo documento di finanza. Hanno lasciato i funzionari a spiegarci degli aspetti tecnici. Se poi andiamo a guardare i contenuti, tralasciando il metodo, andiamo a vedere che si tratta di una riproposizione di vecchi progetti che si trascinano da anni e che vengono spostati di anno in anno con l'aggiunta dei bollini colorati dei goals dell'agenda 2030 dell'Unione Europea come a fare una sorta di maquillage per far vedere che in realtà seguiamo quelle che sono le indicazioni dell'Unione Europea. Ad una lettura appena più attenta si vede in realtà che la regione toscana ancora naviga a vista su quasi tutti i fronti. Un atto importante nel quale Italia Viva è stata protagonista dell'approvazione dell'atto più importante della giunta regionale. Il Consiglio approva un bilancio che mette risorse importanti per le infrastrutture scolastiche, per la cultura, per gli invasi, per i comuni, tante questioni che vengono affrontate, asili gratis per i bambini in famiglie fino a 35 mila euro, risorse per famiglie che hanno dei minori disabili, risorse aggiuntive per RSA e RSD, una manovra che è sociale, che è economica, che alla fine si chiude non aumentando le tasse così come te l'aveva chiesto, non viene aumentato il bollo, non vengono aumentate le addizionali IRPEF e soprattutto i comuni trovano risposte importanti. Penso a dei comuni che avevano sollecitati interventi storici, penso a Marradi dove si può fare lo svuotamento di un invaso, penso a Bagnarripoli rispetto a interventi infrastrutturali, penso anche a Castellina Inchianti rispetto a iniziative finalizzate allo sport, nel contempo altri comuni come Mulazzo, altri comuni importanti ovviamente come Pistoia ma nello stesso tempo anche in realtà importanti nell'area di Pistoia, nell'area di Pisa, un ritrovamento che avevamo chiesto con forza a Ponsacco rispetto a una soluzione di problematiche di carattere abitativo e poi risposte infrastrutturali che vanno per tutta la Toscana in termini culturali e sociali. Credo un bilancio positivo che consolida la maggioranza di governo, PD e Televiva hanno ritrovato un accordo nel metodo del lavoro, un sostegno al Presidente Gianni per arrivare a metà mandato più forte di come siamo entrati in queste esperienze. Un anno di bilancio che arriva naturalmente come sempre in tempi stretti, questa volta veramente siamo stati travolti da una serie di documenti, a cominciare dalla nota di aggiornamento al DEF, da tutta una serie poi di interventi che sono stati portati dalla Giunta, quindi ci aspetta un esame assolutamente approfondito. La questione è sempre la stessa, siamo di fronte anche qui a un'assenza ancora del piano regionale di sviluppo, naturalmente una partita importante e sicuramente già fin da ora la possiamo dire riguardo agli enti locali. Personalmente ho ritenuto opportuno, in una fase anche di particolare criticità, ho tenuto conto anche delle difficoltà degli stessi comuni, di molti comuni, di arrivare anche a completare alcune opere importanti legate al PNRR. Oggi c'è bisogno di dare un segnale concreto, ecco perché tra le migliaia di emendamenti dei miei colleghi ho preferito focalizzarmi su tre situazioni che ritengo importanti. La prima è sicuramente quella di dare sostegno ai comuni intermedi fino ai 20.000 abitanti che oggi allo stesso modo dei piccoli comuni necessitano di un sostegno approfondito sul fronte degli investimenti. Dall'altro ripropongo un tema che ho sostenuto già con forza che sono i 9 milioni derivanti dall'aumento sostanzialmente del bollo auto che io insisto vengono poi destinate all'efficientamento delle imprese. Questi sono i temi su cui intendo lavorare e cercare di capire se ci può essere una convergenza ampia in Consiglio regionale.